Musica Cominciamo questa giornata, siamo tutti portatori sani di legalità o almeno questo è l'auspicio per oggi, 16 maggio, nel tribunale più grande d'Europa. Insieme a me una collega, la giornalista brillante Franca Leosini che tutti noi conosciamo per Storie Maledete ma io credo che Franca sia qualcosa, anzi tanto di più oltre che le Storie Maledete. Allora intanto oggi qual è il tuo ruolo? Beh intanto è un ruolo di testimonianza perché è importante esserci e poi in fondo è anche un modo per coinvolgerli, io penso più che per rappresentarsi con i giovani, con i ragazzi, per coinvolgerli, per fare capire cos'è realmente la legalità. Perché legalità, insomma io faccio trasmissioni che hanno a che fare col grosso crimine, insomma con la criminalità, non criminalità organizzata, con il crimine diciamo di tipo privato. Però vorrei che i ragazzi capissero che la legalità è un'altra cosa, insomma quindi questo è quello che io cercherò di trasmettere oggi, insomma che la legalità vuol dire rispetto, vuol dire fare il proprio lavoro. è che se la vita del diritto è diritto alla vita, penso che sia importante che i ragazzi cominciano a capire veramente dai banchi di scuola che cosa voglia dire, diciamo vivere in linea con quelle che sono così le regole della civiltà, già questo è legalità. E questo ci piace molto, non a caso un tribunale oggi a porte aperte, cioè con i ragazzi che potranno vivere seminari, assistere a dibattiti e fare soprattutto domande. Allora i ragazzi, i ventenni di oggi, quelli proprio a cui è rivolta questa giornata, ricordiamo che sono 800 ragazzi delle scuole superiori, sembrano a volte rassegnati a uno stato di cose dominante. Secondo Franca Leusini, giornalista, perché questo? Cioè di chi è colpa? La famiglia? La scuola? Se c'è una colpa? Sì, diciamo non generalizzerei, insomma perché generalizzare quello è un crimine. I ragazzi diciamo purtroppo forse vivono in una maniera anche troppo così semplice, per non dire comoda, insomma che è banale. Quindi in un certo senso non hanno attraversato, probabilmente sì, loro la crisi la sentono, però non la vivono nel profondo. Quindi il fatto che siano in qualche modo, come tu dicevi, disimpegnati, forse è responsabilità nostra. Nel senso che noi probabilmente non poniamo loro, non li coinvolgiamo in quelle che sono veramente le problematiche che loro dovrebbero avere per costruirsi il loro futuro. Perché noi dobbiamo aiutarli in questo senso, però dobbiamo anche stimolarli. Noi in fondo, ecco la nostra responsabilità di, diciamo, non solo di genitori ma anche di persone che vivono nel pubblico, insomma che hanno ruoli pubblici, è quello di non sapere trasmettere loro questo senso di responsabilità che ognuno deve avere facendo qualsiasi cosa li competa, competa, insomma. Facendo, studiando nel modo giusto, lavorando nel modo giusto, capendo, non so, il valore, anche il valore del danaro, se me lo passi, ma nel senso del sacrificio che costa, insomma, a un certo punto procurarsi quel tipo di sostentamento che è frutto di lavoro, che è frutto di impegno, insomma, che debbono imparare che nulla viene regalato nella vita. E devono avere questa sensazione, questa consapevolezza, che nessuno gli debba loro regalare niente, che loro debbano guadagnare quello che poi avranno nella vita, se riusciranno ad averlo, questo. Ultima cosa, perché poi Franca è impegnatissima nei suoi dibattiti, anche lei sarà in aula per rispondere alle domande dei ragazzi, soprattutto fare da moderatrice, sempre e da sempre impegnata a fare veramente nel servizio pubblico un servizio pubblico, di pubblica utilità, questo intendo. Ecco, anche in questo la televisione potrebbe aiutare a veicolare dei messaggi, perché tu l'hai sempre fatto, forse qualcuno dovrebbe seguire un po' il tuo esempio. Vabbè, insomma, la televisione ha delle responsabilità enormi. Io dico la responsabilità della televisione, quando mi chiedono, ma la televisione deve educare? No, non devi diseducare, che è un'altra cosa, insomma. Cioè, la televisione deve dare degli input, anche nel linguaggio. Io, per esempio, mi batto, e la cosa che mi gratifica è vedere questo, che le trasmissioni di cui io sono autore e che conduco, che sono trasmissioni che usano un linguaggio di un certo tipo, insomma. Vengono seguite a tutti i livelli. Non è vero che praticamente vengono seguite solo dai piani alti. Perché io, se entro in un supermercato, so quando entro, ma non so quando esco. Il che vuol dire essere seguiti da tutti. E ora, cosa vuol dire? Che se tu usi un linguaggio adeguato, ricco, non è vero che la gente non ti segua. La gente impara. E noi, in questo anche, è la nostra responsabilità. Nel linguaggio. Perché il linguaggio è il portatore di quelli che sono i concetti. E noi abbiamo, come televisione, anche il dovere di usare quel linguaggio giusto per veicolare anche quello che noi vogliamo trasmettere agli altri. E in particolare oggi, che è la giornata dei giovani, ai giovani. Grazie Franca, sei sicuramente la persona giusta per questo incarico. Grazie. Grazie.